Giornata di presentazioni questa mattina alla Questura di Salerno dove alla presenza del dottore Enrico sono stati presentati il nuovo dirigente della DIGOS Vera Gallilami e il nuovo responsabile delle relazioni esterne e portavoce della Questura Giuseppe Fedele. Vera Gallilami è salernitana per la precisione di nocera inferiore e già vicequestore aggiunto della Polizia di Stato. La presenza sul territorio in una realtà come quella salernitana rappresenta sicuramente un ulteriore approfondimento di una serie di problematiche che sono state da me trattate anche già a livello centrale. Da Roma io in realtà facevo parte della direzione centrale della Polizia di Prevenzione che coordina tutte le DIGOS sul territorio. L'aspetto più rilevante è vedere l'applicazione concreta di una serie di necessità che sono dell'intero territorio nazionale. Quindi rappresenta da un certo punto di vista un approfondimento specifico su un territorio, qual è quello salernitano. Quindi io sono molto contenta di approfondire questo aspetto. Io dal punto di vista professionale ho lavorato a Milano precedentemente sul territorio, quindi una realtà molto più grande. È la prima volta che mi confronto su un territorio, potremmo dire provinciale, ma non in termine negativo voglio utilizzare questo termine. Ma sicuramente con difficoltà da un punto di vista logistico, da un punto di vista di mezzi, che il questore sta cercando anche in parte di risolvere. Giuseppe Fedele invece sarà il nuovo responsabile delle relazioni esterne e portavoce della Questura. Fedele è nato a Salerno e dal 2015 svolge l'incarico di dirigente dell'ufficio di personale. In linea con le politiche ministeriali, noi abbiamo sempre sperimentato con il mio predecessore, la dottoressa Concia, che ringrazio per i preziosi suggerimenti che mi ha dato per svolgere al meglio questo lavoro. Gli indirizzi ministeriali sono quelli di un'amministrazione aperta, trasparente e sempre pronta a dialogare con tutte le parti della società. Io con alcuni di voi abbiamo già un rapporto pregresso per i tanti servizi che ci siamo trovati a condividere noi dal punto di vista professionale, voi dal punto di vista dell'informazione. Mi auguro che questa collaborazione sia ancora più stretta per il futuro. Alloro, il benvenuto del questore Enrico che nel suo intervento non ha dimenticato di salutare e ringraziare chi ha ricoperto fino ad oggi il delicato incarico. Nell'ambito di un turnover anche la questura di Salerno ha effettuato un piano di movimenti che riguardano i funzionari della stessa questura perché io sono un convinto assertore che il funzionario debba rimanere un determinato periodo al proprio posto e poi debba essere rinnovato nell'incarico perché questo comunque produce maggiori stimoli che poi alla fine si traducono in maggiore redditività dell'ufficio. Grazie.